Ieri i cittadini andriesi hanno ricordato il ritrovamento delle ossa del patrono San Riccardo in questi giorni in tempi normali. Ci sarebbe stata la fiera d'aprile, ma chiaramente con la pandemia non ci sono manifestazioni. Ascoltiamo uno stralcio dello speciale sulle tracce di San Riccardo e Francesco II del Balzo. Sarà trasmesso integralmente su Teledeon oggi alle ore 15.05 e in replica mercoledì prossimo alle 21.45. Vediamo. Il 23 aprile è il giorno del ritrovamento delle ossa di San Riccardo, patrono della città di Andria. Era il 1438 quando avvenne questa scoperta in onore della quale il Duca d'Andria, Francesco II del Balzo, decise di istituire la fiera d'aprile. Sette, otto giorni di festa continuata per la comunità che tra l'altro viveva il passaggio dall'inverno alla nuova stagione, quindi simbolicamente una rinascita, simbolicamente anche la preparazione a quello che doveva essere poi il nuovo anno sociale, lavorativo, economico. Quindi la fiera diventava un momento per acquistare, un momento per visionare quello che il mercato offriva, diventava un momento per unirsi intorno alle tradizioni e alle celebrazioni. Ecco, sono passati tanti, tantissimi anni dall'istituzione della fiera d'aprile, dal ritrovamento delle ossa di San Riccardo, una fiera d'aprile che ha conosciuto in tutto questo suo percorso periodi di fermo dal punto di vista celebrativo per arrivare poi all'anno scorso al blocco totale causa Covid. Siamo in uno dei luoghi più suggestivi della nostra chiesa cattedrale. È un luogo suggestivo perché, conosciuto da tutti come la cripta della cattedrale, in realtà nasce come una chiesa di superficie, una chiesa che precede l'attuale cattedrale. E questo ad indicare che la presenza di una comunità cristiana nel nostro territorio è una presenza antica, probabilmente precedente anche alla nascita della Civitas Normanna di Andria. Ecco, il cristianesimo ad Andria non arriva con i normanni e non arriva nemmeno con Riccardo Vescovo, ma è una presenza che già è radicata nel territorio, seppure in maniera disseminata, perché la nostra città nasce in età normanna, ma in realtà il territorio era già abitato precedentemente in maniera disseminata ed era un territorio abitato da popolazioni che già avevano incrociato il cristianesimo. Tanti documenti infatti ci dicono che il nostro territorio era nelle pertinenze del Vescovo di Trani e probabilmente questa chiesa, nata come chiesa di superficie, lo testimoniano le aperture che troviamo lungo le mura perimetrali di questa chiesa e che ci dicono dunque che c'era un affaccio all'aperto. Ecco, era una chiesa in cui si amministravano i sacramenti, era una cosiddetta chiesa arcipretale, una chiesa cioè in cui c'era la cura d'anime delle popolazioni che abitavano in questo territorio ma che rientravano nella giurisdizione del Vescovo di Trani.